La ventesima edizione della Mostra Mercato dello Zafferano di Cascio, uno dei prodotti più tipici di questo territorio. Una ventesima edizione che è anche una ripartenza dopo la sosta obbligatoria dell'anno passato, un segnale di ripresa che ci si augura possa portare anche tanti turisti e visitatori in questi nostri territori. Sì, chiaramente come ha detto lei è corretto, noi l'anno scorso non l'abbiamo potuta fare per ovvi motivi. Quest'anno è la ventesima edizione con un sapore diciamo di rilancio. Abbiamo avuto la fortuna di avere un periodo molto proficuo dal punto di vista turistico perché luglio, agosto, settembre, ottobre sono tornati i turisti, sono tornati i pellegrini che era un anno e più che ne venivano pochissimi per le restrizioni che ci sono state. Dunque questo è un momento in cui noi possiamo dire che si va verso la normalità sperando proprio di mantenerla per sempre, ecco abbandonando un po' questa precarietà che ci abbiamo avuto. Lo zafferano è un prodotto tipico delle nostre zone, antico, è una spezia che veniva utilizzata proprio nell'antichità ma è stata riscoperta nelle nostre zone in cucina in tanti altri modi. Questo proprio per coniugare l'aspetto turistico, l'ambiente, la natura proprio perché noi dobbiamo rilanciare questi aspetti sotto sia dal punto di vista turistico ma anche di ambiente perché noi oltre al turismo vogliamo che le nostre zone siano abitate e rilanciate sia dopo il covid ma anche dopo il sisma. Come sta riprendendo Caascia? Anche appunto ora si parlava del terremoto ma anche c'è stato questo anno di covid. Qual è la situazione? Allora la situazione è buona, è promettente, dobbiamo essere bravi. Noi ci siamo anche quest'estate attenuti rigorosamente alle norme, magari a volte è anche pesante dover temperarsi a tutte le esigenze, però è fondamentale. Se vogliamo ripartire, se vogliamo che il turismo riprenda, noi viviamo di turismo, questo è il nostro ambito, il turismo ci deve essere, ci sta dando dimostrazione che il turismo è pronto ad essere accolto. Noi dobbiamo essere bravi ad accoglierlo, ad accoglierlo sempre meglio e a far sì che la nostra città possa rifiorire come il nostro fiore. Quali sono le caratteristiche del zafferano purissimo di Caascia? Quanto è importante per il vostro territorio? Intanto devo dire che sono già passati più di vent'anni da quando abbiamo rincominciato la coltivazione dopo secoli di oblio e questo è già un grossissimo traguardo. In una agricoltura fatta di piccole aziende che portano soprattutto i prodotti tipici, quindi farro, lenticchia, eccetera. La coltivazione del zafferano è diventata un po' l'emblema dell'azienda e quindi per il territorio è molto importante. Siamo arrivati a vent'anni e più però ancora c'è molto da fare, soprattutto non tanto come coltivazione ma come recepimento del territorio di questo prodotto che non solo è buono ma fa anche bene.